Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Tra le tante attività che ho fatto nella mia storia personale c'è stata anche quella di collaboratore con il mensile CHAC, il mensile di cinema. In particolare collaboratore con quelli che all'epoca, sto parlando del 2008-2009 se non sbaglio, se non prima, chiamavano i collaterali da edicola, ovvero quei prodotti che venivano allegati al prodotto principale. In quegli anni ci fu una sorta di boom dei collaterali che ancora un pochino prosegue, non il boom ma la produzione di collaterali ma in maniera ormai crepuscolare. Allegata a CHAC uscì una serie di libri che trattavano di tutti i generi possibili, di tutti gli argomenti possibili cinematografici e io collaborai a diversi titoli di questa collana, diciamo così. Peraltro, piccolissima digressione curiosa penso e anche forse istruttiva, producevo oltre a contenuti su commissione anche idee perché io ho avuto sempre questa per fortuna caratteristica che mi ha sempre aiutato, anzi è stata l'unica arma che ho sempre avuto per proseguire nella difficile crescita, nel difficile avanzamento nel settore editoriale che poi mi ha portato anche a costruire la 51 Publishing e oggi anche a 51 Benessere Shop. Proponevo idee diverse che mi venivano puntualmente rimandate indietro, rispedite, venivano rispedite al mittente senza tanti complimenti nel tipico atteggiamento milanese, l'atteggiamento non soltanto da bere ma anche quell'atteggiamento, mi perdonano tutti i milanesi all'ascolto, come si dice sempre esclusi presenti, però generalmente sbruffone, generalmente noi abbiamo già visto tutto, sappiamo già tutto e tu cosa vuoi che vieni dalla provincia e non capisci una fava. Ecco fra le altre idee proposi un libro sulle serie tv che allora non erano ancora così bulimicamente diffuse a livello delle piattaforme, ancora le piattaforme non c'erano ma vivevano una bella stagione di ricchezza di proposta, le due grandi serie, cioè le due serie che senza alcun dubbio secondo me hanno rivoluzionato la serialità televisiva e che oggi non a caso vengono ricordate come parte di quella golden age moderna delle serie tv, sono senza dubbio CSI e 2424, Lost forse anche ma è già più tardo, le due serie che hanno innovato completamente il valore del contenuto televisivo sono storicamente, riconosciute storicamente come queste due serie, ebbene quel periodo che ancora viveva una certa euforia contenutistica in merito alle serie tv mi fece proporre questa idea che mi venne sprezzantemente ributtata in faccia nel senso del noi qui facciamo cinema, non è che facciamo queste cosette, poi successe che qualche mese dopo, sei mesi dopo, mi venne detto dovresti collaborare con questo libro della collana sulle serie tv e io dissi ma non era quell'idea che avevo proposto sei mesi fa, otto mesi fa e che mi avevate un po' così ributtato in faccia in modo derisorio, ma insomma tergiversarono un po' poi venne a sapere che in sostanza quella idea era stata riproposta da una giornalista che aveva più agganci, ecco diciamo così, e infatti questa cosa poi mi fu certificata da il miglior collaboratore con cui avevo a che fare, caporedattore allora di Chuck, che mi disse sostanzialmente in maniera molto sobria, sì sì è vero e come dici tu ma figliolo fai il tuo lavoro e non rompere i coglioni. C'è poco da ridere, comunque così va la vita. Sono riuscito a fare però già tre minuti di preambolo senza dire niente, tra le varie proposte che mi vennero fatte ci fu, ecco il punto, la scrittura di un capitolo sul cinema del sarong. Io dissi ma è una sorta di nazione esotica, non ho mai sentito nulla del genere e poi mi informai e scoprì che il sarong, proprio il filone cinematografico del sarong movie, era sostanzialmente il filone sexy avventuroso della Hollywood classica e protagonista, tra le protagoniste, quella che si ricorda di più del cinema del sarong e non a caso colei che storicamente propose, mostrò il primo nudo integrale nella storia di Hollywood, se la memoria non mi inganna, fu proprio lei, Edin Lamar. Ora vi domanderete qual è stato il primo nudo, ovviamente vi domanderete questo, ma se ci dici questo, qual è stato il primo nudo nella storia del cinema italiano? Il primo nudo integrale non me lo ricordo, forse non lo so, ma so quando è stato il primo seno nudo mostrato nella storia del cinema italiano, è quello mostrato da Clara Calamai nel film La cena delle beffe di Alessandro Blasetti e voi domanderete a questo punto, ma Clara Calamai, proprio l'assassina di Profondo Rosso? Sì, proprio lei, però 35 anni prima. Starei qui a parlarvi ore e ore di cinema, ma non cadrò nella digressione, anche se ormai ci sono finito in fondo, mi rialzo e rilancio dicendo che Edin Lamar è proprio la protagonista di oggi e la donna, l'attrice che mostrò il primo nudo integrale nella storia del cinema hollywoodiano non solo era bellissima, non solo era magneticissima, ma era anche un genio e vi leggo la sua storia grazie a un articolo di Lorenzo Bernasconi pubblicato sul magazine Mistero. Le mie pupille sembravano scoppiare, ma non riuscivo a distogliere lo sguardo. Davanti a me c'era indubbiamente la donna più bella della terra. La maggior parte delle dive dello schermo non appaiono così belle quando le vedi in carne e ossa, ma questa era infinitamente più bella dal vivo che sullo schermo. Georges Antey, musicista e compositore surrealista francese, celebre per il brano Ballet Mécanique, in cui suonavano 16 pianoforti sincronizzati mediante rotoli di carta perforata e studioso del controllo automatizzato delle pianole, si espresse in tal modo dopo l'incontro tutt'altro che fortuito con l'attrice. Eddie Lamar, infatti, lo aveva messo da tempo nel mirino. Lei, fin dal 1938, anno in cui la comunità austriaca di Los Angeles si era mobilitata contro il nazismo, aveva iniziato a elaborare un'idea geniale, che avrebbe, a suo dire, permesso una rapida svolta nel conflitto, ma non sapeva come realizzarla. Come molti altri attori, intellettuali e scrittori, anche Eddie Lamar sentiva il bisogno di contribuire alla causa belnica e, avendo alle spalle studi di ingegneria abbandonati per il cinema, le venne l'idea di mettere a punto un sistema per evitare che i siluri delle forze alleate fossero intercettati dal nemico. Le tornarono così alla mente le nozioni apprese durante le lezioni universitarie e l'amore per la scienza e per il progresso tecnologico occupò di nuovo un posto centrale nella sua vita. Unendo passione, intelletto e intraprendenza, iniziò a sviluppare la propria invenzione dai discorsi ascoltati a casa del primo marito, Fritz Mandl, tra mercanti d'armi, generali e investitori, e quindi decise di sfruttare le informazioni che si scambiavano a proposito di un metodo per teleguidare i siluri. Eddie aveva compreso che ogni sistema di guida basato sull'uso di una sola frequenza poteva essere facilmente intercettato e bloccato dai nemici. Così immaginò un sistema innovativo che variasse, in modo apparentemente casuale, la frequenza radioimpiegata. Iniziò a escogitare un modo per distribuire il segnale su più frequenze, per proteggere gli ordigni dalle interferenze generate dal nemico. Un'idea apparentemente semplice, fra virgolette, ma estremamente geniale, che però mancava del passo successivo, la parte realizzativa, finché appunto non avvicinò Antegli, che le aveva rivelato di essere stato ispettore federale per il Ministero dei rifornimenti e degli approvvigionamenti. Eddie scarabocchiò il proprio numero di telefono sul parabrezza dell'auto del musicista, lo invitò a casa sua, tra libri, progetti e disegni tecnici e, dopo i primi momenti di naturale imbarazzo, fra i due si instaurò un'amicizia molto affiatata e uno spirito collaborativo altrettanto proficuo, che proseguì lungo tutti gli anni di carriera dell'attrice. E che carriera! Ma se è vero che un diamante nasce dal carbone, facciamo un passo indietro. Già da bambina, Eddie Lamar aveva mostrato grande passione per la recitazione, che crebbe piano piano durante i primi corsi di teatro. Appena a dodicenne si era iscritta di nascosto a un concorso di bellezza, vincendolo, e con il premio ricevuto aveva comperato un cappotto in pelliccia. Sua madre, Trude, che cercava di contenere la vanità esuberante della figlia, aveva finito per relegarla in un prestigioso collegio svizzero. Per la madre, infatti, era un peccato mortale sacrificare all'aspetto fisico l'ingegnosità di una bambina in grado, a soli cinque anni, a sua detta, di smontare e rimontare un carillon. Ben presto però il collegio non fu sufficiente a tenere Eddie distante da Vienna, sua città di origine, e che sarà una costante nostalgica nella intera sua esistenza. Nata il 9 novembre 1914, si chiamava in realtà Edwig Eva Maria Kisler e proveniva da un'agiata famiglia ebrea. Decisa a intraprendere la strada della recitazione, aveva seguito un corso con Ernst Arndt, iniziando quindi a frequentare i Sasha Film Studios. Abbandonati i corsi di laurea in ingegneria che aveva intrapreso e per i quali era ritenuta di una intelligenza eccezionale, Eddie venne selezionata dal regista Max Reinhard a Vienna per alcune audizioni e nel 1931, a soli 17 anni, si era ritrovata su un treno diretta a Berlino, fervida capitale dal carattere disinibito, tollerante e creativo. Lì aveva iniziato a lavorare con Alexis Granovski, un ebreo fuggito dall'Unione Sovietica dove dirigeva il Gosset, il teatro nazionale ebraico di Mosca. A quel tempo la metropoli tedesca attirava gente del cinema e dello spettacolo da ogni angolo di mondo, come Josephine Baker, Marlene Dietrich e Greta Garbo. Per le commedie in lingua tedesca vi era allora un'alta richiesta di attori viennesi, poiché nel cinema sonoro dell'epoca l'inflessione della parlata austriaca era considerata più morbida rispetto a quella della Germania del Nord. Per la giovane Edi le cose quindi iniziavano a prendere una piega interessante e promettente. Ed eccoci alla prima grande svolta della sua vita, quando da giovane donna piena di volontà e ambizioni mosse i primi passi verso ciò che sarebbe diventata in breve tempo una diva. Fu soltanto nel 1932 che ottenne la parte che l'avrebbe in breve tempo consacrata all'attenzione del grande pubblico. Venne scritturata dal regista cecoslovacco Gustav Maciati per il film Estasi. Edi imparò in poche settimane la parte. Malgrado si trattasse di un film sonoro, il dialogo era ridotto a una quindicina di battute. Ma il bello doveva ancora arrivare. In una sequenza Edi emergeva infatti dalle acque di un lago completamente nuda. In un'altra era in assoluta esaltazione erotica. Allora non mi ricordavo male. Fu il primo nudo femminile non pornografico della storia del cinema. Il film fu accolto con disappunto e proteste dagli spettatori in sala, sia per le scene considerate allora scabrose, sia per il fatto che Eva, la protagonista femminile interpretata da Edi non venisse punita nel film per avere abbandonato il marito, continuando così a vivere la sua sessualità ritenuta molto lasciva senza pagarne lo scotto. Negli Stati Uniti il film finì sotto processo e il magistrato ne ordinò la distruzione. Ma il distributore vinse in appello con la clausola imposta di editare una versione in cui una voce fuori campo rivelasse che Eva, avendo divorziato dal marito, era quindi libera di risposarsi con l'amante. Gran parte dell'opinione pubblica però reputò il film uno scandalo. Nonostante Edi abbia sempre sostenuto di essere stata quasi costretta a girare quella sequenza, le testimonianze rilasciate dalla troupe rivelano che la giovane attrice sapeva cosa aspettarsi, in quanto protagonista del film sapeva che doveva apparire nuda in alcune scene. Non protestò o strillò durante le riprese. E certo nessuno le tosse i vestiti. Fatto sta che da quel momento in poi la sua carriera non subì rallentamenti né contraccolpi, proseguendo invece a gonfie vele. Finché non sposò il primo marito, il mercante d'armi Mandl. Gelosissimo, il magnate la privò di ogni libertà, costringendola a vivere sotto sorveglianza nelle sue sontuose residenze e sfoggiandola come se fosse un pezzo di arredamento con amici e clienti. Ma Edi era troppo intelligente per farsi sottomettere. Celati dietro sorrisi compiacenti e sguardi ammiccanti, Edi aveva ben altri pensieri e mentre raccoglieva quelle informazioni che le sarebbero state essenziali in un futuro non troppo lontano, progettava la fuga. In seguito a diversi tentativi presto naufragati e all'inasprirsi delle leggi contro gli ebrei in ogni aspetto della vita sociale e lavorativa, nel 1937 Edi Lamar riuscì finalmente a fuggire a Londra con le tasche piene di gioielli, dove di lì a poco si imbarcò con Louis B. Mayer alla volta degli Stati Uniti. Fu lo stesso produttore di origini bialorusse, intuendone le potenzialità a deciderne il nome d'arte che la consacrò a Hollywood, Edi Lamar. Con roba del genere, le disse, con fin come estasi, a Hollywood non andrai da nessuna parte. Mai. Il culo di una donna è per suo marito, non per gli spettatori. Tu sei carina, ma io devo tenere presente il punto di vista delle famiglie. Non mi piace quello che potrebbe pensare la gente di una ragazza che svolazza per lo schermo a culo nudo. In breve, sui set, a fianco dei grandi attori del tempo, da Claire Gable a Spencer Tracy, si delinearono le caratteristiche del personaggio che divenne il suo marchio di fabbrica e che il pubblico imparò ad amare e a imitare. Capelli lunghi fino alle spalle, pettinati a onda e separati da una scriminatura centrale. Un viso simmetrico, con le sopracciglia a formare due archi perfetti sulla carnagione e burnea. Il tutto caratterizzato da una recitazione statica, con la macchina da presa che si sostituisce all'attrice, lasciando che sia l'obiettivo a fare il suo lavoro. Alcuni tecnici l'accusarono di incapacità di immedesimazione, ma secondo Eddie, per apparire affascinante, una ragazza deve soltanto stare ferma e sembrare stupida. Ma ecco che gli umori della guerra tornarono a farsi sentire in tutto il loro orrore. E fu allora che la divina Eddie Lamar lasciò spazio al genio che l'aveva contraddistinta fin da bambina. Ricolleghiamoci allora al fortunato rapporto instauratosi tra i due inventori. Insieme all'amico Antey, riuscì quindi a mettere a punto il sistema che tanto aveva studiato, con l'obiettivo di trovare un modo di creare una guida a distanza degli ordigni bellici, evitando ogni interferenza nemica. Si basava su due rotoli contenenti lo stesso schema casuale che, ruotando in sincronia, ricevevano e trasmettevano frequenze sempre diverse. Collocati nel trasmettitore e nel ricevitore del segnale avrebbero contenuto l'elenco delle frequenze da utilizzare, un elenco che si rifaceva a frequenze corrispondenti al numero dei tasti del pianoforte, rendendo i siluri praticamente impossibili da intercettare. Il 10 giugno 1941 i due amici presentarono all'ufficio brevetti americano il loro primo progetto, il Secret Communication System. L'11 agosto del 1942 il brevetto venne loro concesso con il numero 2 292 387, ma l'installazione di tale sistema a bordo di un siluro fu ritenuta impraticabile. Era il tempo delle valvole termoioniche, troppo ingombranti per essere installate a bordo di un simile strumento. Pertanto il progetto venne bocciato dalla marina militare statunitense e il brevetto finì nel dimenticatoio. Successivamente i due presentarono un secondo progetto, che prevedeva l'esplosione automatica di un missile antiaereo in prossimità dell'obiettivo, ma solo all'impatto. Ma questo destò nella commissione esaminatrice un interesse ancora minore della precedente proposta. Soltanto vent'anni dopo il Secret Communication System trovò la sua applicazione militare durante la crisi dei missili a Cuba. Ma questa è un'altra storia. Torniamo con Eddie a Hollywood, che inizia ad andarle stretta. Tra matrimoni falliti, gravidanze e raccolte fondi a favore dell'impegno americano in Europa, la vita di Eddie proseguiva tra alti e bassi lavorativi. Nel 1947 dichiarò «Devo smettere di sposare uomini che si sentono inferiori a me. Deve esserci da qualche parte un uomo che possa essere mio marito senza sentirsi inferiore». A partire dalla fine degli anni 50, Eddie finì sempre più preda di un disorientamento e di una confusione che attribuì alla propria condizione di emigrata senza radici. A fine anni 60, mentre perdeva l'unica certezza della sua vita, la propria bellezza, finì per aggravarsi la sua ormai endemica repulsione verso Hollywood. Sola, con tre figli da mantenere e il cinema che le voltava le spalle, cominciò a frequentare uno psicanalista. Divenne ossessionata dal proprio declino fisico e inasprì il rapporto con i figli. I suoi ultimi decenni la videro coinvolta in episodi di cleptomania e in svariate cause legali intentate per ottenere assurdi risarcimenti, in un peggioramento complessivo della sua salute fisica. Poi, all'improvviso, un'altra svolta, uno dei tanti repentini cambiamenti che la vita le aveva sempre riservato e in cui, ormai, faticava a sperare ancora. Nel 1985 venne desecretato il sistema di sua invenzione, proprio nel momento in cui era in pieno sviluppo la telefonia cellulare. Il concetto cardine del sistema inventato con il suo amico Antey, la suddivisione di un ampio campo di frequenze in più canali, trova oggi applicazione perfetta nella telefonia mobile e nei sistemi informatici wireless. Il sistema bluetooth e wireless della rete cellulare altro non è che l'evoluzione del brevetto che Eddie sviluppò nel lontano 1941. Così, negli anni 90, si moltiplicarono per lei i riconoscimenti, giungendo, infine, all'età di 84 anni, nell'ottobre del 1998, alla medaglia Kaplan, la più prestigiosa onorificenza austriaca per un inventore. Il suo commento fu lapidario. Era ora. Purtroppo, la storia, quella con la S maiuscola, arriva sempre in ritardo. In ogni caso, ci mostra questa storia, anche se soltanto brevemente tratteggiata, la energia incredibile di una donna, di una diva e di un genio. Insomma, un essere umano totale, come l'opera d'arte totale che Richard Wagner aveva sempre sognato di realizzare. Eddie Lamar non si è mai arresa perché non è detto che esista un modo soltanto per esprimere se stessi o che si debba sempre scegliere tra l'una o l'altra delle proprie caratteristiche per dare forma piena al proprio talento. Come ognuno di noi, è molto di più di quello che appaia all'esterno. La donna che, dopo estasi, si meritò l'appellativo di più bella donna del mondo, era molto, molto altro e da oggi in poi, prendendo il vostro smartphone tra le mani, potrete sempre ringraziarla con un sorriso. Se ne andò senza un lamento, così come era stata decisa e risoluta nell'intera sua vita. Morì per un attacco cardiaco nella notte del 19 gennaio 2000 davanti al televisore, con una maschera per gli occhi sollevata sulla fronte. Le sue ceneri riposano ora nella selva viennese. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Grazie per la visione!